Zoom in, spazio di approfondimento. Parliamo di letteratura, proviamo a parlare, se ci riusciamo, di cultura e di libri, cercando magari di stimolare l'interesse o la voglia di leggere di qualcuno. Ne prendo un a caso, ma non è assolutamente a caso. Il titolo è Di lì a poco sarebbe piovuto, fra poco dico chi è l'autore. Intanto continuavo anche a studiare la letteratura ed era bello, nei momenti di nostalgia e di amarezza, abbandonarmi alla lettura di una novella di Verga, di una poesia di Gozzano o di un estratto da un poema cavalleresco. I libri avevano il potere di non farmi sentire più solo e di proiettarmi altrove, di farmi viaggiare sull'onda di immagini lontane, scaturite dall'universo interiore e dalla vita degli uomini, che da sempre sentivo più vicini, anche se in genere erano morti da almeno qualche decennio. Gli scrittori. Allora, Nicodemo, Marcello Nicodemo, un piacere averti qui. Questo è un tuo libro, un libro che è scritto qualche anno fa, molto personale, e mi piace questo riferimento ai libri. E penso che poi ti hanno fondamentalmente stimolato, perché a un certo punto hai preso carta e penna e hai cominciato a scrivere pure tu. Certo, non solo. Diciamo io, c'era una buona dose di tristezze e di solitudine nella mia adolescenza, come anche si può desumere da quel brano che hai appena letto. Ero un pochino leopardiano, ma diciamo così, quando ero ragazzo. Tanto che ho passato un brutto periodo davvero isolato e solo, con la sola passione che portavo avanti, quella della Palacanesto, perché sono stato un giocatore di Palacanesto per un certo numero di anni. E poi per il resto vivevo abbastanza da solo e senza grossi stimoli. In realtà la letteratura è stata poi quella che mi ha sicuramente dato la spinta per fare nuove cose. Non solo scrivendo, perché poi io faccio anche il professore di lettere adesso. Ormai sono diventato da una decina d'anni un professore di letteratura. Quindi la letteratura, alla fine, pur essendo io un uomo d'azione, uno sportivo, essendo stato uno sportivo per tanti anni, ma la letteratura in fondo è la cosa che più riempie la mia vita. 45 anni, lo possiamo dire, anche perché siamo praticamente coetali. Hai gestito anche un jazz club, quindi c'è molto di autobiografico in questo primo libro, che è un libro dove c'è tutta la passione, la voglia di praticare uno sport, giocare uno sport, non dico di primeggiare, ma soprattutto dare tutto se stesso. E poi secondo me c'è una bellissima storia d'amore. Sì, lo sport l'ho usato un po' come, come diceva uno studioso di Montale, come correlativo oggettivo, nel senso di, per far passare alcune cose di un percorso filosofico, che poi è stato il percorso filosofico che ha cambiato la mia esistenza, e far passare questo percorso filosofico in un modo non noioso, per cui arrivasse al lettore, ma un po' sotterraneamente. E quindi ho usato lo sport un po' come catalizzatore di emozioni, di pensieri, di stati d'animo e anche di questa crescita personale. La storia d'amore è una storia d'amore fra due ragazzi, ed anche questo è un po' un sintomo di questa grande voglia di inventare la propria vita con estrema libertà e con estrema intensità, che all'inizio faceva invece soffrire il protagonista che si sentiva costretto in una vita nella quale non si riconosceva. Alla fine, quindi, anche questa è una tappa, diciamo così, di questa ricerca di autenticità e di verità e di bellezza che ha informato la mia esistenza, e quindi poi, inelottabilmente, anche quella dei miei personali. C'è molto di personale autobiografico, o c'è anche qualcosa di romanzato? Una curiosità mia, perché l'ho letto e te l'ho detto prima dell'inizio della trasmissione, mi è piaciuto molto, anche se si sentiva che era il primo libro di debutto. Sì, diciamo che io mi piace che i libri, non soltanto i miei, si senta che chi ha scritto un libro è legittimato ad aver scritto quel libro, nel senso che ha pagato un prezzo per ciò che scrive su quel libro, e che non siano soltanto parole ben distribuite, insomma, messe sulla carta. Quindi nel mio caso, soprattutto in quel primo libro, sì, questa è una storia fortemente autobiografica. Nei libri successivi, diciamo, sono diventato un pochino più smaliziato, forse un pochino più raffinato letterariamente, nel senso che ho mischiato meglio le carte. Comunque lo stile è sempre notevole, magari qui un po' grezzo, però dopo sei migliorato notevolmente, hai fatto esercizi di stile, di lettura, cosa hai fatto? Beh no, quello no, tutto sommato, io ho fatto diverse versioni del primo libro, ma poi mi sono reso conto che la sua, quella che tu hai chiamato la sua essenza un po' grezza, io la chiamo naif, nel senso che potevo raffinarlo ulteriormente, perché poi sono passati ulteriori anni, da quando l'ho finito a quando l'ho pubblicato, però mi piaceva che l'ingrediente essenziale fosse proprio di sentire la verità di quella storia, e di quel percorso. E quindi ho voluto anche che dal punto di vista linguistico magari fosse anche un pochino naif, un pochino grezzo, come dici tu. Quindi propositalmente hai fatto la cosa. Esatto. Perché mi sembrava facesse parte di questo ingrediente di sincerità assoluta, è un ragazzo che parla. I contenuti sono sempre importanti in un libro, assolutamente, però anche il modo di esprimersi, secondo me, è fondamentale, perché anche uno scrittore che può sembrare così arzigogolato, così complesso, che posso dire Isabella Santa Croce, eccetera, però alla fine ha una sua razionalità di scruttura, e così anche in quest'altro libro che mi hai perso, appunto, dopo semmai ce lo dici tu, il discorso della vita orizzontale, Nel Fuoco, che mi hai fatto leggere lo scorso anno, è molto equilibrato, è coerente, io lo definisco così, il libro, no? Ci sono più parti che si concatenano, però non c'è mai una parte che prevale sull'altra. Sì, beh, come ti dicevo, sicuramente il lavoro di scrittura poi ti fa migliorare, per cui se ho voluto lasciare volutamente, anche per un fatto stilistico, quasi antiletterale, una scelta quasi antiletterale, nel senso di più contenutistica che formalistica, il libro un po' grezzo, così com'era, a un certo punto, senza più raffinarlo. Poi non ho più fatto scelte di questo genere, infatti sia il secondo che il terzo libro sono delle macchine abbastanza ben calibrate, insomma, nelle loro parti, eppure nella lingua, insomma, ho sicuramente raffinato molto di più. Fermo restando che nella sostanza c'è molto contenuto. Qui c'è anche una ricerca storica, io non so, anche in questo caso, quanto ci sia di biografico, perché sono i personaggi molto particolari, diciamo, il personaggio narrante che ha questa crisi post-matrimoniale e decide di vivere una vita che forse non ha vissuto, non ha avuto il coraggio di vivere, e inizia un percorso, no? E incontra degli altri personaggi. Certo. Mi piaceva che parallelamente a questa ricerca di verità e di bellezza del protagonista, e di autenticità, ci fosse anche la possibilità di mettere, di confrontare due epoche, una quella presente, in cui c'è una evidente assenza di valori forti di riferimento, con un'epoca invece in cui i valori di riferimento erano decisamente forti. C'era, insomma, lo spirito del tempo che si respirava a quei tempi, e parlo dell'Italia dal 1900 fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, lo spirito di quel tempo era fortemente idealistico. Il fatto è che poi questa spiritualità sbandierata e resa poi ideologia porta inevitabilmente a fanatismo, a irrigidimenti ideologici. Ecco, ma questo personaggio però ti affascina, il personaggio questo camerata, ex-camerata, affascina molto il protagonista del libro, anche se poi in realtà non se ne innamora mai, però lo affascina. Sì, sì, questo personaggio è una persona sicuramente autentica, che ha avuto una coerenza fino in fondo nel seguire la fascinazione, che poi è stata la fascinazione per il grande idealismo di suo padre, che era un fascista della prima ora, che aveva fatto, era proprio un Sansepolcrista, di quelli che nel 19 avevano fondato il fascismo e avevano partecipato alla marcia su Roma, e che poi sarà coerente fino in fondo, sarà repubblichino dopo l'arresto di Mussolini, insomma, del 25 luglio del 43. E questa adesione a dei valori spirituali è proprio ciò che va cercando il protagonista, che non a caso si chiama libero. Però chiaramente tu entri nei personaggi, perché in fin dei conti sono personaggi tuoi, no? Allora, vedi? Io credo che la vita autentica abbia un andamento soprattutto verticale, che qualsiasi persona felice viva principalmente in quella dimensione. La maggior parte degli altri invece privilegia l'aspetto orizzontale, quello della vita quotidiana, ma lì i nostri sensi e i pensieri sono continuamente disturbati e incannati da mille specie di ostacoli e specchi deformanti, che ci impediscono di capire, di esprimerci liberamente. Il viaggio più interessante, che offre poi la necessaria spinta anche a quello orizzontale, avviene fuori, dallo spazio e dal tempo, nella vita verticale. Qui gran parte delle azioni e dei particolari che riempiono i nostri giorni perdono qualsiasi importanza, scompaiono, rimangono pochissime cose. E quella più vistosa, con cui devi assolutamente fare i conti in partenza, è la morte. Una volta che ne hai accettato il dolore e il mistero, cominci a riemergere, ma con una nuova consapevolezza, e metti pochi elementi nel tuo bagaglio, amore, coraggio, onore, sapere autentico. Ecco, qui è anche il senso del titolo che ho dato alla trasmissione, la vita verticale, che è questa vita autentica, che tu però metti nella bocca, nelle parole di Ugo. Sì, è Ugo proprio, è il repubblichino che in realtà è uno studente di Libero, perché Libero è un professore d'inglese, come anche a me è capitato di essere in passato, soprattutto, e niente, come a lui ha dei nipoti negli Stati Uniti, perché poi dopo la Seconda Guerra Mondiale, come è successo a molti fascisti, è andato in Sud America, si è trasferito per un lungo periodo in Sud America, e lì ha avuto dei figli che poi si sono, a loro volta, trasferiti negli Stati Uniti, quindi lui per parlare con i suoi nipotini, insomma, deve ritenere il suo inglese in esercizio, nonostante abbia 79 anni, e quindi si conoscono per questo motivo. Questo personaggio comincia per una simpatia nei confronti di Libero, che sente così genuinamente interessato ai suoi racconti, a raccontargli un po' la sua vita, la sua vicenda, e anche quella del padre, poi che è un po' al centro, in fondo, di questa parte storica del libro. Senti, ma tu non ti senti un po' imbarazzato a mettere, non dico te stesso, ma i tuoi sentimenti a disposizione di tutti, a chi li voglia consumare? Ma come ti dicevo è una cosa incidentale, io non scrivo i miei libri per parlare dei miei sentimenti, delle mie scelte dal punto di vista intimo, erotico, è una cosa assolutamente marginale nei miei libri, ciò che conta nei miei libri è il percorso di ricerca filosofica che c'è dentro, cioè di ricerca di una vita intensa, bella, e che innervi poi le giornate, la vita orizzontale, come diceva Ugo. La vita orizzontale, cioè la nostra vita quotidiana, è fatta di tante abitudini che poi attengono in fondo la nostra sfera animale, in una gran parte, oppure attengono a una serie di abitudini, di obblighi sclerotizzati che ci portano in giro, ma che in fondo spesso sono staccati dalla nostra parte più intima, e questa è una delle cose che ci fa più soffrire. Senti, qui sono due storie d'amore, una un po' più concitata, un'altra sofferta, quella di Nel Fuoco, parlo di questi due libri perché li conosco meglio, dopo parliamo anche dell'altro, semmai, mi fanno pensare a un autore che a me piace tantissimo, Pier Vittorio Tondelli, lo leggi, suppongo che qualcosa ti abbia... Praticamente tutto di Tondelli, infatti come avrei visto, c'è anche all'inizio del libro è riportata una frase di Tondelli, che non è che abbia poi chissà quale significato profondo, ma mi piaceva metterla proprio perché parla di Palacanestro, che Tondelli era anche appassionato di Palacanestro, e parla di Palacanestro proprio in un modo simbolico, un po' come ho fatto io in questo libro, usandola Palacanestro, sì, descrivendola in dettaglio, ma per altri motivi, per indicare la crescita delle persone. Ti fidi di me, la me di me, sì. C'è assolutamente bisogno di qualcuno che scriva i libri, e di qualcuno che scriva le canzoni. C'è bisogno di iniziare un romanzo, c'è bisogno di scrivere un poema, e tu devi scrivere sapendo che c'è bisogno di quel che scrivi, come di quel pallone lanciato nella retina. Le emozioni, c'è bisogno che tu scriva le emozioni nel tuo libro, e nel tuo canestro, e del tuo canestro. Beh, qui comunque ci sta tutto, anche quello che hai raccontato nel libro. Sì, mi sembrava una frase veramente adatta, anche perché, come ripeto, sfruttava anche il fatto che la Palacanestro possa veicolare poi delle emozioni, dei pensieri importanti, anche più profondi, che vanno anche al di là poi del singolo gesto sportivo. Chiaramente io mi sono concentrato su questi due libri, che consiglio spassionatamente di leggere, perché sono davvero belli, al piacere di leggere. Però ne hai portato un altro, che sarebbe questo, Ferragosto in famiglia. Un po' soffro a chiedertene i contenuti, perché, come ti dicevo, preferisco sempre prima leggere i libri, ma a beneficio dei nostri tre spettatori è giusto che tu ne faccia riferimento? Sì, beh, questo è il secondo libro che ho scritto, ed è un thriller, in fondo. Ci sono tre personaggi cui i destini, per uno strano caso, si incontrano, e poi si risolvono. E tutto avviene nel giro di pochissime ore, nel giro di un giorno di Ferragosto, da qui il titolo Ferragosto in famiglia. Questi tre personaggi sono un professore di lettere, appunto, 43enne, che vive in un austero casolare di campagna, e che si è un po', diciamo, ritirato dal mondo, ma che è comunque una vita scelta, fatta di poche cose, ma poche cose, seguito con passione, tra cui la letteratura, la musica, poche amicizie, ma di grande valore. Poi c'è un giovane ragazzo, Carlo, il Biondo, perché poi a Roma, nei quartieri, tutti hanno uno mignolo, no? Come abbiamo sentito adesso dal tristemente famoso Erpelliccia, no? In genere nei quartieri a Roma tutti hanno un loro soprannome. Questo Carlo, il Biondo, è un ragazzo di buona famiglia che per alcune vicende sgradevoli accadute nella sua famiglia finisce col fare il marchettaro, cioè il prostituto. E poi c'è un terzo personaggio, che è un vecchio che ormai ha tirato i remi in barche, che si lascia proprio andare verso la sua fine con una cupa di sperazione. Infatti gira in questa giornata per Roma, ubriaco, con questo bottiglione di vino e percorre quest'ultimo tratto della sua vita in una maniera davvero come una nave alla deriva, insomma. E sanamente il caso vuole che le vite di queste tre persone siano legate in una maniera che all'inizio magari sembra insospettabile, invece alla fine non posso chiaramente rovinare la lettura. No, assolutamente, devo leggere. La lettura del thriller ai miei futuri lettori. Ma insomma, alla fine le vite di queste tre persone risultano legate in maniera estremamente profonda. Tutto quello che tu scrivi e racconti, Gaber li definirebbe piccoli spostamenti del cuore. Sono infiniti questi spostamenti, secondo te? Secondo me è proprio quella la dimensione verticale, no? La dimensione verticale è proprio il fatto di ancorare la nostra vita quotidiana a un percorso spirituale, di modo che la vita quotidiana sia innervata da qualcosa che trascenda le nostre singole giornate, attività e routine. Altrimenti la nostra vita, quanto dura, insomma. Se è tutta dedicata ad attività che svolgiamo automaticamente in ossequio alla nostra corporeità, ai nostri bisogni, quanto dura davvero la nostra vita? 48 ore, 24 ore di azioni davvero sentite, di azioni che davvero hanno un significato profondo per essere autori del nostro destino. Chi invece davvero è alla ricerca riesce in qualche modo a far toccare le due dimensioni. Allora, come diceva Ugo, quando le due dimensioni, quella verticale, spirituale, e quella della vita quotidiana si toccano, ecco che fanno scintille. Da quel momento in poi non si può più tornare indietro, anche se bisogna essere vigili, ma non si può più tornare indietro. La vita si trasforma a quel punto, diventa intensa, diventa bella. E anche libero il protagonista di Nel Fuoco, alla fine si trasforma, non è che torna indietro fondamentalmente, no? Non torna sicuramente indietro, anzi io credo faccia una scelta, anche faccia in fondo la scelta che lui doveva fare, anche qui non possiamo anticipare sicuramente come va a finire questa vicenda, se no rovineremo un po' la lettura, ma io penso che spiritualmente lui va avanti, senza altro. Il coraggio di rompere, ma rompere, parliamo all'inizio del libro, rompere, ma rompere con la testa determinati steccati, non con la violenza, sempre nel rispetto, in quel caso, della sua donna. Certo, e oltretutto dando valore alle cose che ne hanno di più. Davvero un messaggio bellissimo. Senti, curiosità. Allora, hai gestito un jazz club, ti piace, suppongo, la musica, non ti chiedo dei generi, però continui a fare degli incontri letterali, perché alla fine, quello che dicevo, magari a quel tempo sarà stata nostalgia, però ti permetteva comunque di viaggiare, di essere in qualunque posto del mondo, e alla fine ti faceva star bene con te stesso. E poi è diventata esperienza anche quella. Oggi diventa anche occasione di incontro, di dialogo, di scontro, anche se vogliamo, letterario. Sì, beh, no, in genere scontri non ce ne sono in questi incontri. È capitato anche questo. Si chiamano questi incontri letterari che facciamo aperitivi creativi. li organizziamo da un 7-8 anni ormai. E insomma, abbiamo avuto anche la fortuna di avere ospiti parecchi dei maggiori scrittori italiani, da Gianrico Carofiglio, da Ciamaraini, da Giuseppe Culicchia, a Nigro, Raffaele Nigro, e molti altri, insomma. Riccarelli che aveva appena vinto lo Strega. Insomma, facciamo queste chiacchierate informali sui libri. In genere io faccio da moderatore, diciamo così, ma faccio più che altro parlare all'autore, lo stimolo con delle domande, ma non faccio... In questo caso sei stata la vittima? La vittima? La vittima mia, in questo caso, che ti ha fatto le domande e ti ho stimolato. Sono invertiti un po' i ruoli. Dove li organizzi? In genere facciamo due incontri, uno a Chieti e uno a Pescara. Solitamente in due librerie di riferimento, che sono la libreria di Luca, e la libreria di Bernauta, ma abbiamo anche fatto incontri in altre librerie o anche in locali. Per esempio il locale che io aprì tanti anni fa a Chieti, che adesso ha cambiato tante gestioni ed è un locale ancora molto gradevole in cui vado volentieri. Lo senti ancora tuo, tra virgolette? Sì, sicuramente. Mi emoziona sempre entrarci. Ci hai fatto la storia. Lasciamo il piacere ai lettori di leggere. Senti, due battute anche su Voci del Purgatorio, un lavoro particolare che hai fatto. Voci del Purgatorio è nato, è un libro gratuito, anche se ormai rimangono pochissime copie in giro. Ed è nato dal fatto che un amico che insieme a me organizzava questi aperitivi creativi, Mario De Benedictis, aveva dei contatti con le carceri per sue relazioni familiari. Quindi abbiamo deciso di intervistare i detenuti delle carceri di Chieti e di Pescara. Questo libro ha 4-5 anni ormai. E li abbiamo fatti parlare un po' di tutto, questi detenuti. Cioè, gli abbiamo fatto tutta una serie di domande, anche con riferimenti all'attualità, riferimenti alla famiglia, ai valori, la globalizzazione. Cioè, li abbiamo fatti parlare un po' a ruota libera. Ne sono venute fuori delle interviste, spesso molto intense, che abbiamo lasciato anche senza a volte neanche correggere qualche errore magari di grammaticale che loro facevano parlando per non alterare il sapore di verità di questi racconti dei detenuti. E insomma, alcuni hanno avuto dei percorsi veramente sicuramente tormentati, ma anche molto intensi. Quindi sono interviste abbastanza interessanti. Voglia di scrivere? Voglia di scrivere c'è sempre. Purtroppo una volta potevano scrivere solo i nobili perché non avevano necessità economiche. Chi deve lavorare per vivere? Purtroppo deve ritagliarsi i tempi per scrivere in una maniera molto faticosa e spesso anche frustrante. Perché scrivere è un'attività abbastanza molto faticosa. Io ho fatto tanto sport e ancora ne faccio. Quindi sono abituato alla fatica. Ho studiato tanto. Sono abituato anche alla fatica intellettuale, ma la fatica di scrivere sinceramente è la fatica più grande che io provo. Nel senso che tu stai delle volte seduto tre ore davanti al tuo computer a pensare a questa storia che volesti scrivere. In realtà non scrivi neanche una riga. Quindi devi accettare questa enorme lentezza anche dello scrivere, questa frustrazione di inseguire una storia, di inseguire dei pensieri, delle emozioni, senza che poi molto spesso tu possa produrre nulla di concreto, di pratico. E per una persona attiva e pratica, come io sono, d'altro canto, è una cosa estremamente strana. E poi quando entri nella storia diventa più facile, perché ormai sai che il percorso che vuoi più o meno seguire, però insomma, cioè nonostante scrivere, come dico anche ai miei studenti, e soprattutto riscrivere. Cioè non è che scrivi una storia o scrivi un capitolo e quel capitolo rimane così. Lo cambierai forse dieci, venti volte prima che possa essere stampato. Però io non ho fretta, no? Da leggere Ferragosto in famiglia. Eccolo qui, lo consiglio ai nostri spettatori. Conosco decisamente meglio Nel Fuoco. Io non sono un rilettore di libri, comunque ha ancora fresca la traccia, il romanzo, così come Di lì a poco sarebbe piovuto, che è stato il tuo libro di debutto. Poi abbiamo parlato a poco anzi di Voce del Purgatorio. Nel tuo sito ti si cerca in internet marcellonicodemo.it È facilissimo, che dirti. Buon lavoro. Ti ringrazio. Grazie per essere stato qui. Sempre a BLS Chieti? Ah, come no? Assolutamente. Io sono un ex giocatore del Chieti Basket, quindi sono molto contento del fatto che la palacanistra sia... Com'è? Anche Potenza e Brindisi o è una... Matera. È Matera. Sì, no, giocai a Matera un paio d'anni, poi anche in altre città, Ragusa. 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 Ok, quindi c'è molto di autobiografia. Sì, sì, nel primo, moltissimo. Scusa, per la curiosità non è approfittato. Grazie a Marcello Alicodemo, buon lavoro. Noi ci rivedremo sicuramente, perché devo leggere Ferragosti in famiglia, poi chissà, quando avrai l'occasione di presentare questa cosa nebulosa, che alla fine comincerà a sciogliersi dentro il tuo PC. Il prossimo romanzo. No, in realtà ho un romanzo finito io, che però, insomma, sto lasciando un attimo decantare. Ho capito, non far decantare troppo. Grazie, l'informazione continua su TVS. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.